Quali sono le altre tematiche in tema di pianificazione del territorio che il nuovo governo regionale dovrà affrontare? Difficile anche in questo caso dare una risposta ad un problema talmente complesso e insoluto e vorrei dire che in questo caso, come anche per l'altra domanda, è inutile indulgere in troppo facili ipocrisie, è ovvio che molto dipende anche dal tipo di visione ideologica che ha chi parla relativamente al problema stesso. Personalmente ma del tutto in termini soggettivi io penso che in questi ultimi anni vi è stato un consumo eccessivo di territorio. I dati del WWF che non sono quelli di un'associazione ambientalista barricadera sul modello di Greenpeace ci dicono che negli ultimi dieci anni, i dati sono del 2011, il quadro è ancora peggiorato, negli ultimi dieci anni dal 2001 al 2011 era stata urbanizzata, cementificata una parte del territorio nazionale pari come se fosse pari alla superficie dell'Abruzzo e del Lazio messe insieme, senza un centimetro di verde. Quindi a mio modo di vedere, ma ripeto è un punto di vista estremamente soggettivo, un'equa politica di governo del territorio dovrebbe farsi carico di obiettivi ambientali e paesaggistici in modo altrettanto fondamentali quanto sono quelli di realizzare manufatti, opere pubbliche, di incentivare l'edilizia privata e quant'altro. Ma certamente non è possibile, a mio modo di vedere, non voglio discutere circa il modello di sviluppo perché ovviamente si possono avere le opinioni più differenziate possibili, ma non è immaginabile una politica di così disastrato, radicale, esasperato consumo del territorio. I geografi, tutti gli specialisti, io ho fatto abbastanza ricerche insieme con i colleghi di scienze politiche, Dan Sero che vice-rettore ed altri sono geografi di una certa reputazione e tutti avvertono anche in Francia circa quest'uso dissennato che si fa del territorio. Per cui certamente un punto di vista ideale, filosofico vorrei dire quasi di etica della legislazione, che a me starebbe molto a cuore trovasse riscontro nelle scelte legislative e strategiche di una regione come dello Stato e senz'altro questo. C'è poi un altro punto su cui ancora una volta si possono registrare marcati dissensi. Rapporto pubblico-privato nel campo del governo del territorio, dell'edilizia proprio, non solo della pianificazione ma della realizzazione di opere che dalla pianificazione ovviamente originano, fa i conti questa tematica con un problema che vediamo essere anche tra i cavalli di battaglia del presente governo nazionale, la semplificazione amministrativa. Quindi l'accelerazione, la liberalizzazione dei rapporti pubblico-privato, il che ha già avuto importanti, quanto non è detto positivi conseguenze per la verità proprio nel campo dell'edilizia urbanistica. Quanti titoli edilizi oggi non sono necessari ed è possibile realizzare manufatti magari non degni di particolare importanza ma neppure di particolare pregio con una semplice segnalazione certificata inizio attività, una scia. Ora a mio avviso un corretto pianificatore del territorio e quindi mi sembra che tuttavia il legislatore piemontese si sia già mosso in questa direzione perché le modifiche fatte alla originaria legge Astengo anche con l'introduzione di un importante istituto, la conferenza di pianificazione, tendono effettivamente a portare intorno ad un tavolo i soggetti pubblici interessati ad un certo evento urbanistico corresponsabilizzandoli nel momento strategico e finale delle scelte senza bypassare le scelte con scorciatoie procedimentali quali sono la scia. Nella mia esperienza anche professionale ma non dico in Piemonte dico in generale non è infrequente che ha avuto un titolo edilizio poi si modifichi pezzo dopo pezzo step by step quel titolo edilizio non riattivando il processo, il procedimento per riavere un nuovo titolo edilizio ma di scia in scia avendo alla fine un prodotto finale completamente diverso. Questa è una di quelle emergenze di tipo urbanistico ambientale alle quali secondo me pone già riparo in modo sufficiente ed adeguato l'attuale riforma della legge urbanistica piemontese ma sulla quale emergenza sarebbe bene continuare a vigilare in modo attivo.